10 giugno 2004, muore Ray Charles. Musicista di straordinario talento, è riuscito a fondere sonorità diverse come rhythm and blues, country, gospel e rock'n'roll in una inedita armonia. Nato nel 1930, diventa cieco dall'età di 5 anni e appena finita la scuola si mette a suonare nei locali. I suoi primi lavori sono influenzati da Nat King Cole e dal blues per piano di Charles Brown. La sua vita e i suoi problemi con la droga sono stati raccontati nel 2004 nel film Ray. Il brano Georgia on my mind è il suo più grande successo. Il suo ultimo contributo alla musica è la produzione di un disco di duetti con Elton John, Nora Jones e Johnny Mattis. Grazie a tutti.